Le aziende titolari di brevetto difenderanno con le unghie e con i denti l'attuale durata di copertura che già si è ridotta rispetto al passato e oramai siamo a coperture brevettuali di 10 anni più 2 di estensione più qualche altro spicciolo in caso particolari che oscillano fra i 12 e i 15 anni che già si sono un po' ridotte rispetto al passato, quindi il sollievo delle casse pubbliche, delle finanze pubbliche sarebbe desiderabilissimo, ma naturalmente bisogna anche rispettare il lavoro e quelli che hanno investito cifre importanti senza sapere, a volte dei farmaci sono stati ritirati un mese dopo l'emissione in commercio e quello che è costato la loro ricerca è andato perduto, quindi io mi accontenterei di mantenere un brevetto di una dozzina d'anni, non di più e magari col tempo gli togliamo qualche altra cosetta.